Mi sembrerà che la meritocrazia, cioè il merito, sia l'unica cosa che ci tiene in piedi, l'unica cosa che vale, l'unica cosa che possiamo esprimere. Ognuno di noi ha delle capacità e queste capacità speriamo spesso di poterle esprimere in maniera pratica e questo non succede, non succede quasi mai purtroppo.